Molto abbiamo cambiato dal punto di vista del design, tutto abbiamo cambiato. Innanzitutto le dimensioni che sono un po' cresciute, quindi posizionando ancora di più l'Opel Grandland come SUV top di gamma, l'ammiraglia della gamma Opel, con tutta la sua tecnologia e tanti elementi di design che sono nuovi e importanti. Ci siamo ispirati per il design alla concept Opel Experimental che abbiamo presentato l'anno scorso e che ha tra le sue caratteristiche, e le ritroviamo qui su Opel Grandland la purezza delle linee, la pulizia delle superfici, abbiamo cercato la semplicità, abbiamo eliminato le cromature e sottolineiamo le linee della vettura attraverso la luce. In più su questo Opel Grandland, caratteristica che abbiamo preso dal concept, utilizziamo il nuovo Vizor 3D, questo frontale che ha una nuova declinazione guadagnando la profondità, quindi la terza dimensione, e che ha per esempio il logo illuminato. Dicevo come utilizziamo l'illuminazione per disegnare gli elementi della vettura e il logo per la prima volta su una vettura di questo tipo qui è illuminato. Sulla parte posteriore, al posto del logo, abbiamo deciso di mettere la scritta Opel per esteso, illuminata anch'essa. L'interno porta con sé tantissime novità, prima cosa c'è il concetto di trasferire parte delle informazioni nel DAP display che diventa centrale, invece di proliferare, di incrementare ulteriormente gli schermi e farli diventare ancora più grandi e quindi troppo ricchi di informazioni, molto spesso anche distraenti. Abbiamo voluto concentrare e trasportare le informazioni principali in un grande Head-Up Display, che è quella proiezione che c'è sul parabrezza, esattamente in linea con lo sguardo del guidatore che sta guardando la strada, e questo Head-Up Display è ora più grande, è più definito, con la definizione migliore, e ha molte più informazioni rispetto a prima, quindi trasferendo le informazioni importanti sulle Head-Up Display rispetto a fare schermi troppo grandi e troppo distraenti. La sostenibilità è una parola chiave per Opel Grandland, lo troviamo in tantissimi aspetti della vettura, innanzitutto i tessuti degli interni sono fatti di materiale riciclato, la vettura in totale ha tantissimi elementi riciclabili in una grandissima percentuale, ma questa sostenibilità si allarga anche a altri aspetti, naturalmente le motorizzazioni che sono tutte elettrificate per ridurre le emissioni di CO2, naturalmente lo vediamo anche nella scritta Grandland che è impressa sul portellone posteriore, non è fatta a basso rilievo praticamente, non ha quelle lettere che prima utilizzavamo e che incollavamo sul portellone, come fanno molti concorrenti. Anche dal punto di vista tecnologico l'Opel Grandland esprime il fatto di essere l'ammiraglia di casa Opel e contiene tantissimi elementi top di gamma, innanzitutto pensiamo ai fari a matrice di LED, sono un sistema che illumina la strada come nessun altro precedentemente, l'avevamo già anche su Grandland precedente con 168 elementi, l'abbiamo portato a 51.200 elementi, più di 50.000 elementi a LED che illuminano la strada e che creano un cono d'ombra intorno alle altre vetture per non abbagliarle, in questo modo si ha un'illuminazione incredibile, pazzesca della strada e che permette di rilevare i veicoli e gli altri ostacoli molto prima rispetto al passato.